Com'è andata la tua forza? All'inizio siamo state abbastanza tranquille, poi dopo qualche giro abbiamo iniziato ad aumentare un po' l'andatura soprattutto sui primi strappetti dall'altra parte del circuito, ma la differenza non si faceva molto. Si formavano dei gruppetti, ma non c'era molta collaborazione, il gruppo rientrava e alla fine siamo arrivati in volata e è andata abbastanza bene. I tuoi obiettivi di arrivare a fine stagione? Obiettivi? Vabbè, domenica prossima la partecipazione ai campionati italiani, lì aiuterò la squadra. Poi un obiettivo che spero di raggiungere sarà la partecipazione agli europei al 23, poi magari qualche altra vittoria. Per cosa dei campionati italiani lo hai già provato? Non l'ho provato, però mi hanno detto che è bello duro, speriamo la squadra vada bene. Grazie. 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 Grazie.